Abbiamo potuto lavorare una settimana, già le altre settimane abbiamo accennato qualcosa, infatti abbiamo sempre proposto partite in corsa. Abbiamo le caratteristiche per poter farlo, bisogna collaudare i movimenti, bisogna sincronizzare i reparti su tante fasi della partita, però in questa settimana l'abbiamo focalizzato abbastanza bene, la squadra ha risposto anche abbastanza bene, quindi molto probabilmente partiremo così. Sì, sì, ma perché ci vogliono delle qualità in fase offensiva per cercare di essere più bravi nella fase di sviluppo e di chiusura del gioco, ed è per questo che ci stiamo orientando a trovare delle soluzioni diverse in fase offensiva in base alle caratteristiche dei giocatori che quest'anno abbiamo a disposizione. Però è chiaro che dobbiamo essere sempre molto veloci, molto bravi nel cercare di trovare quegli spazi che magari riusciremo a trovare e di sviluppare nel modo migliore le giocate che abbiamo provato. Noi l'anno scorso potevamo fare a meno di mezze ali che si inserivano, perché comunque avevamo due attaccanti che avevano sostanza in avanti, quindi potevi sopperire all'inserimento dei centrocampisti. L'unico che magari in questo modulo qua è meno portato è Paolucci, che è un altro giocatore molto molto interessante, però lo si può sfruttare sia da esterno d'attacco se vuoi avere magari un po' più di copertura, e anche come tutta fascia che lui è uno che ha grande corsa e quindi può ricoprire questi due ruoli.